Lei ha detto che Giovanna rappresenta la poesia, perché? Che cosa intende? L'ottica della poesia come l'ottica che io ho applicato a Giovanna dicendo che il suo modo di guardare le cose era già un destino. Quest'ottica non può che essere, certe volte terribile, certe volte facile, abitudine di non guardare le cose come se fossero veri. La poesia vuol proprio dire avere uno sguardo particolarmente puro, non prendere le cose sul serio, ogni superficie, ma riuscire come se ogni oggetto o persona anche, perché se io parlo di una persona in poesia è perché deve avere un'aureola intorno alla testa. Sapete che gli indurano, dicono che ognuno di noi emette una certa luce, l'aura. Ecco, ho bisogno di scrivere una poesia che un certo oggetto, per un certo occasione per dire che la conclude, e poi comunque una certa occasione ha fatto di una piccola cosa che non ha senso, di qualcuna cosa che ha senso, ma quella cosa non corrisponde alla visione normale. Perché una rosa deve essere poetica? Sono per circa 3.000 anni che si batte sulla poeticità della rosa. Ma a un certo punto anche una cosa del genere perde vitalità. vogliamo vedere che la parola topo, per esempio, c'è in Elio e in tanti altri, e in altre parole che non arrivano una volta, poi in Montale non ne parliamo, in Aria, eccetera, tutte queste cose qui, Montale è una quantità di parole che si sarebbero veramente volgari, ma che non si sarebbero mai usate prima. E invece di qualcuno si è accorto che queste stesse parole portano con sé un vero, un qualche cosa, si sono arricchite di un certo colore, per cui si può dire in poesia una cosa che prima non era possibile. Lo affascinante della Giovanna d'Arco è proprio l'esistenza di una pluralità di roghi, per cui c'è il rogo di Caterina, c'è il rogo di Giovanna, c'è il rogo della storia, c'è il rogo del canta storie Giovanna, dell'attrice che è lì fisicamente presente, e poi c'è il rogo dell'ideca silla, con la serie, il rogo della poesia che si fa in scena, in questo caso abbiamo visto ieri. La pluralità di questi roghi rende, come penso che diceva il nostro abilissimo, bravissimo regista, rende l'opera veramente una regia all'infinito, opera aperta in poesia e opera aperta anche in regia teatrale, perché se solo una regia vuole svezzarsi o divertirsi a prediligere, a creare un equilibrio fra questi roghi, beh, ne ha per una vita intera. Grazie, ho chiesto a salutare Marta Barasco, che è la presa, il dono di teatro, tra l'altro, che mi ha regalato anni fa un'emozione. Abbiamo fatto il premio mondale al teatro Mercadante, e mi è stato veramente una bellissima, memorabile giornata, e i candidati che dovevano, erano cinque, perché quelli scelti dalla giuria di tutti i soci, e la meno gettonata di tutti era Marta Barasco, perché era femmina e giovane, e invece poi è stata fuori lei come super vincitrice. Una Giovanna d'Arco, quindi, anche la giuria di certezza. Non è stata una Giovanna d'Arco. Dalle acque del sabato, all'occhio del ciclone, è tutto un divenire virico, virissimo. Questo suo lirismo che si addensa, si metta oggi alla poetica moderna, ecco, le chiedevo anche della sapienza del sentimento, la sapienza del sentimento, del cuore. Come oggi lei la investa nella poetica contemporanea post-moderna? Ce ne sono tracce? Grazie. Se non ci fosse una tracce non ci sarebbe neanche più l'ombra della poesia, perché il cuore incomincia un po' prima ancora di questi vertici, no? Comincia anche nella letteratura, diciamo, ingenua, popolare. Vorrei dire comincia dalle cartoline dei soldati, no? Perché lì già funzionano i sentimenti, no? È chiaro che nelle cartoline dei soldati, nella letteratura femminile, come si diceva una volta, nei romanzi rosa, no? E poi anche in quello che scrivono gli uomini, a un certo livello non molto alto. Il sentimento c'è, c'è, come c'è in pittura, come c'è nelle canzomette, le canzoni. Il poesia, forse la domanda ha molto senso, perché recentemente si sente un impoverimento della sensibilità. Prendiamo quella amorosa, che è quella più visibile, diciamo, non quella più... La poesia d'amore è rarissima oggi. È molto, molto rara, com'è sta storia? Sì. Mentre prima veniva in primo piano, no? Pensava a un poeta, si pensava a un poeta d'amore. Un poeta canta l'amore, canta il primo amore, canta la sua donna, canta il magnificare la sua donna, come hanno fatto Dante Petrarca, e tutti gli altri dopo, Leopardi, eccetera, eccetera. E oggi questo si sente poco. E questo è veramente un grande impoverimento che io considero provvisorio passeggero dello stato delle nostre lettere, no? Perché se così fosse sarebbe un disastro. La colpa è in grandissima parte delle distrazioni favolose che hanno travolto l'uomo negli ultimi 40 anni. Pensiamo alla televisione, per esempio, no? Tutto il tempo che noi diamo la televisione. Adesso poi è arrivato il diavolone massimo che è internet, tutte queste cose, facebook, no? Si perde il tempo. Non è che queste cose siano cattive di per sé. Però si perde il tempo. Si perde il tempo. Ecco, io uno giorno, mi ricordo, ho fatto ridere a tutti dicendo io, mi vado a casa, ho fatto un, non so, un qualsiasi internet e vedo un programma sulla riproduzione delle balene. E dico, ma guarda, ho vissuto fino ad oggi senza rocundare come si riproducono le balene, no? Vabbè, mentre mi fongo questo strano interrogativo c'è un salto di manopola di cosa negli ultimi giorni da pure una santele, ma come sarà morto questo? È stato avvelenato? O non è stato avvelenato? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma so di che? E' stato di nuovo un altro argomento, eh? le grandi amanti del Ressore. Ma quante erano? Non so di ronare, ma oppure... Insomma, dopo, verso le... e sono rientrato a casa alle tre e mezza, mi ricordo che sono le sette quasi, la mia giornata se ne andava, senza concludere niente. E' pure, ho sferato tutte le cose culturali, perché tanto la riproduzione delle balene come gli ultimi giorni di Napoleone, è tutta cultura, è tutta cultura. Capisci? Però la vita se ne va in questa maniera, per distrazione. Senza l'opera. Senza l'opera. Senza neanche abbeverarsi a una cosa che ti può poi dopo dare altro sangue per l'opera. C'è un verso di Rebaud che io continuo a considerare considerare il più grande poeta di quell'epoca proprio, che dice «Par delicatesse, j'ai perdu, ma oui!» Che è di una profondità spaventosa quel verso. Per delicatezza, per distrazione, perché mi faceva piacere, perché mi arricchiva in qualche maniera, voglio sapere come se le producono le balene. e quindi si perde il tempo. E allora non si va mai a far conditare niente. Allora anche l'amore diventa erotismo. Oh, l'erotismo è una cosa seria, non è mica da prenderle da ci sopra. È una delle più grandi arti del mondo, è un modo per conoscere la natura, valersi della natura, fare dell'arte sulla natura, per così dire. Però se io mi occupo di erotismo senza ricordarmi che cos'è l'amore, allora diventa una cosa che non ha nessun significato profondo. Invece oggi la poesia sta in un limbo, in un limbo dove si parla molto di altre cose, ma mai di quelle profonde. Io nel mio libro, no, non tra le lavori, dove ho messo in eserco al principio, come ho messo un motto della, una frase della Yurse Maher, la rega a lei che non voglio chiare. E io mi devo dire, di certe storie che ci coinvolgono in profondità, capita che si racconti tutto meno l'estenziale, eppure anche così quella storia funziona. Ecco, sento quello, crediamo di sapere che lo siamo moltissimi, abbiamo letto tutto, però aveva perso il centro. Moravia dice una cosa molto, io l'ho sperimentato, avendo fatto moltissimi mestieri, l'ho sperimentato, e che viene, vengono molte cose preziose da cose che abbiamo fatto controvoglia. Controvoglia. Perché se noi seguiamo sempre così le nostre tendenze, accarezzando il nostro destino, accarezzandolo, ma senza stuzzicarlo, senza vederlo in faccia, no? Ecco, non arriviamo a niente. Se invece la vita di colpo ti butta nella legione straniera, o ti butta nella miseria quando sei ricco, o ti fa morire i figli quando sono l'unica tua riserva, queste cose qui di colpo ti fanno vedere dei territori ai quali tu non avrei mai pensato.